51 punti, più 8 sulla più emigliata inseguitrice, il Sambuceto, il torneo di eccellenza, parla la lingua del Chieti, a certificare la forza nero-verde, il 24esimo turno di eccellenza, con gli uomini di Lucarelli che passano a scoppito 2-1 sulla Miternina, di nuovo avversaria tra tre giorni nell'ultimo atto della Coppa Italia. 4-3 per il trailer di Avezzano, con Miciche, Rodia e Delgato, terminali offensivi, Cervinello dell'undice di Atino, Lorenzo Farindolini, in casa Miternina, 3-5-2 per il collega Angelone, con il geometra Alfonsi a supporto di Santi Rocco, in terza linea, debutto dal primo minuto per Filippo Angelone, classe 2001. Minuto 4, la prima Miccia è Delchieti, Farindolini, botta ravvicinata, Rossetti c'è. Settimo, i locali spezzano l'equilibrio del match, Tuzzi in aria, Pescangelone, la cui spizzata, emette fattura, 1-0. Quattordicesimo, Chieti vicino al bersaglio grosso, angolo di Ricci, di Ciccio, manda al lato, a porta sguarnita. I nero-verdi comandano le operazioni, mentre la Miternina prova a pungere di rimessa. Ha scoppito, 4 minuti, esplosivi di Chieti. Trettottesimo, Delgado dalla bandierina, Micicchè raccoglie e riporta in quota i suoi. Quarantaduesimo, Assolo Marvan, destro velenoso e sferra in buca d'angolo, 1-2. Decimo della ripresa, è ancora nero-verde, l'impronta sulla gara. Dialogo Delgado-Marfisi, Felli si materializza ed evita il peggio. Minuto 20, la Miternina torna a bussare, Tuzzi in mezzo, Felli decolla, palla in out. L'uovo della provvidenza in casa giallorossa si chiama Elvis Felli. Trettaseiesimo, sulla botta di Rodia, l'ex di turno ci mette la sagoma e sventa la terza rete. E' questa l'ultima emozione del match, da qui alla fine non si registrano altre emozioni. Negli spogliatoi ascoltiamo il tecnico del Chieti, Alessandro Lucarelli, e quello della Miternina, Vincenzo Angelone. Più 8 sulla seconda, il campionato di eccellenza va agli archivi. Beh, penso proprio di no, dai. Nel senso, lo so che adesso il giochino è cercare di farsi scendere un po' di concentrazione, non tu, ma le squadre avversarie. In realtà non dobbiamo stare sul pezzo. Oggi è stata una partita che dimostra che le partite facili non esistono. Primo tempo bene noi, ma abbiamo dovuto recuperare uno svantaggio. Nel secondo tempo, come io sapevo, la Miternina in questo momento attraversa un buon momento. Ha i giocatori brillanti e riesce a metterti in difficoltà. Vedi le ultime due vittorie che hanno fatto in casa con la Torrese e con il Delfino. Quindi sono contento perché alla fine abbiamo tirato fuori una prestazione anche oggi di carattere. Per arrivare all'obiettivo ci servono queste prestazioni. Nel primo tempo non siamo stati bravi a accorciare in avanti nel loro giro palla. Perdevamo campo e nell'ultimo quarto d'ora stavamo giocando davanti nella nostra di rigore. Nelle due mischie abbiamo preso i due gol e loro sono andati in vantaggio. Nel secondo tempo siamo rientrati più aggressivi, cercando di accorciare in avanti. Siamo riusciti, abbiamo tenuto il chiedi nella propria metà campo. Però non siamo stati pericolosi perché eravamo troppo frettolosi di mettere la palla dentro l'aria quando con uno o due passaggi potevamo arrivare negli ultimi 20-30 metri e creare situazioni più pericolose. Rimane solo la prestazione per i punti persi.